Eccomi, 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 presto che tardi, buonasera amici e amiche rossoneri, ragazzuoli, ragazzuole belle, buon sabato 6 agosto 2022, ore 18.03, devo correre perché dobbiamo andare anche un attimino al supermercato, farmi la doccia e mettermi davanti alla tv per vedere Vicenza, Mila, ragazzuoli belli, soprattutto questo talento Mancini, Tommaso Mancini che stiamo per comprare, talento pazzesco come centravanti, ragazzi, vi voglio ricordare che Giroud non gioca perché ha un affaticamento muscolare, De Keteler giocherà gli ultimi minuti di questa partita, ripeto, presto che tardi, vado velocissimo, voglio fare una critica ai tifosi milanisti, quelli che almeno scrivono, che si autodenunciano come tifosi che non comprendono. Allora, io non voglio fare nel maestrino niente ma sono una persona sincera schietta, non sono qua per fare l'accattone oppure quello che deve sparare solo cavolate dalla mattina alla sera o altre storiacce varie e ci includo anche maestrino. Voi che scrivete sotto l'ultimo mio post dell'arrivo di Off-White, poi adesso vi spiego bene la cosa, i soldi arrivano ma tanto la proprietà non sgancia, voi non ci avete capito una mazza ma io sono consapevole che voi non capirete mai niente da qui fino alla fine dei vostri giorni. Mi dispiace dire questa cosa però continuo a riscontrare una parte di tifoseria ma più che tifoseria parlerei di intelligenza umana in senso generale che non vuole andare oltre il proprio naso e non capisce l'evolversi della situazione. E questo mi dispiace perché vivere in questo modo vuol dire vivere de merde come si dice in francese, però contenti voi, contenti tutti, io non vi rispondo, non me ne frega niente, il vostro pensiero e compagnia cantante. La mia è un'utopia, cioè so benissimo che non posso avere persone totalmente nella totalità che mi capiscano sempre e comunque e ovunque come il mio motto forza mia, sempre e comunque ovunque. Però insomma pretenderei che almeno le persone guardando i miei video, seguendo il canale, il mio canale, iscrivendosi al mio canale vadano oltre il proprio naso. Ma leggo costantemente che ci sono persone, pochi devo dire la verità, pochi che proprio non ci capite una mazza. Ragazzi ve lo dico sempre, non ci capisci una mazza. Lo dico a quelli che hanno scritto, arriva off-white ma tanto, non cambia niente, la spesa non va. Chiedetelo a Chessy che non può giocare con il Barcellona perché per motivi di problemi economici il Barcellona è praticamente inguaiato, sta vendendo pezzi del Barcellona a più non posso. Ultimo pezzo che ha venduto l'altro giorno, ancora un altro 20% venduto. Il Barcellona si sta vendendo praticamente a tranci per sopravvivere. e che sì, insieme a Lewandowski, a Christensen e a Rafinha non possono giocare perché la Liga non dà l'autorizzazione. Alla fine la darà perché verranno messi altri soldi dalla banca. Praticamente il Barcellona è completamente svenduto, lo ripeto, a tranci, a pezzi. È un club che economicamente, mi dispiace voi del Barcellona ma è la verità, è solo una mia, diciamo, congettura fantasia, sì una mia congettura fantasia, ma poi attività è la realtà, ha questi grossi problemi economici. Per cui andatelo a dire alla Juventus che sta facendo di tutto e di più per accontentare il suo allenatore Allegri che non è contento del suo mercato. Andatelo a dire all'Inter che non sa come destreggiarsi per mandare avanti la sua squadra. Tanto è vero che non sanno come dire ai propri tifosi che allora loro vorrebbero vendere Scrinia ma alla fine forse non lo venderanno, venderanno qualcun altro ma alla fine Scrinia potrebbe essere venduto alla fine del mercato. È tutto un casino, poi c'è a proposito il figlio di Facchetti che fa simpatico contro il Milan però la notizia adesso ve la do e prendetela con le pinze. Questa però, lo dico subito, è una mia fantasia. È una mia, se vogliamo, invenzione perché lo dico per quel quattro del giorno dopo, quelli che sono bravi solo a criticare il giorno dopo. Ma sì, ma me ne frego, io me ne frego, io faccio quello che voglio, nella mia vita ho sempre fatto così e mi trovo da Dio e vivo bene. Vado di corpo, faccio una vita bellissima e vengo premiato per quello che valgo. E allora, praticamente, lo dico tranquillamente, sapete perché abbiamo mollato Renato Sanchez? Per prendere chi? Dai, ditelo. No, ma non lo sapete. C'è un certo giocatore del Lens, centrocampista, può essere un certo Fofanà, che ha appena dichiarato proprio in questi minuti, che adesso sono le 18.08 prima di Vicenza-Milan, che ha detto che a fine mercato tutto può essere che se ne vada all'Lens. E guardate, guarda un po', guarda un po', su Fofanà, chi è che c'era? Su Fofanà, tanti club noti e potenti. Uno di questi, il Paris Saint-Germain, che ha appena preso Renato Sanchez come centrocampista, e molto probabilmente noi potremmo dare l'affondo per questo giocatore. È una mia invenzione, è una mia fantasia. Poi molti di voi, alcuni no, molti no, siete la minoranza. Alcuni contestatori, soliti, noti, praticamente per loro, non con pressione, diranno, vabbè, tanto non comprendemo niente, perché la proprietà è povera. Bene. È povera come il marchio di Off-White che sta per arrivare in questo momento. Perché LVMH? Perché, come diceva Gagliani, certi amori fanno il giro, fanno giri lunghi e poi tornano, perché è quello, il detto che ha sempre detto Gagliani, gli amori che fanno giri lunghi e poi tornano, è vero, e me ne sono accorto anch'io sulla mia pelle, ma quegli amori che sono tornati a volte, ragazzi, che barba che noia. Insomma, questo è quanto. C'è da dire che Virgil Abloh, il fondatore di Off-White, questo genio che è considerato degli ultimi vent'anni, che è stato uno dei più grandi designer, cioè stilisti della moda, io che lavoro nella moda, e chi acquista moda, chi si intende di moda, sa che Virgil Abloh è proprio stato un genio, e il marchio Off-White è un marchio pazzesco, nel lusso sportwear casual. Marchio pazzesco vuol dire che un paio di scarpe, minimo costano 500 euro, abbigliamenti per migliaia di euro, ma che non tutti sanno che è stato rilevato da Bernard Arnault nel luglio 2021, adesso ve lo faccio vedere. Eccolo qua, guardate qua, guardate, adesso ve lo mostro. Il 21.7.2021 è stato ufficializzato, adesso è il compianto Virgil Abloh, perché Virgil Abloh è morto di cancro novembre 2021, dopo l'acquisizione di Bernard Arnault di Off-White, che rileva l'EVMH al 60% di Off-White, Virgil Abloh, ora potremo evolverci. Poi il povero Virgil Abloh è morto novembre 2021 di cancro, questo è Bernard Arnault, e praticamente il discorso è questo. Ve la faccio in breve. La notizia è una fuga di notizia di oggi, non è ancora certa al 100%, ma il contratto con Armoni Blaine, Bassotto, vedete, io ho Lacoste, però il Bassotto, praticamente scade, e allora il Milan cerca un nuovo sponsor, ma non è che lo cerca adesso, è in contrattazione da tempo. E praticamente Virgil Abloh, prima di venire a mancare, io me lo ricordo benissimo, se qualcuno di voi lo sa lo scriva, ma io lo so benissimo questa cosa, perché sono sempre sul pezzo 24 ore su 24, cioè oddio, questa è una cavolata, perché dormo in media 6 ore al giorno, per cui. Il discorso è questo, Virgil Abloh aveva già disegnato una capsule collection per il Milan, addirittura erano girate delle foto con il marchio LV, cioè Louis Vuitton, ma poi dopo è stato corretto con Off-White, perché Virgil Abloh ha disegnato e curato parecchie collezioni per Louis Vuitton. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che è già una, diciamo, qualcosa che bolle in pentola da tempo, non da oggi, Virgil Abloh, molto probabilmente, aveva visto nel Milan qualcosa che si poteva evolvere a livello esponenziale, quando subentrò Elliot, e praticamente tutti i meccanismi sono andati a incastrarsi, ma la cosa più importante è che, senza offendere Harmon & Blade, ci mancherebbe, che è un altro ottimo marchio di abbigliamento classico, ma Off-White è un qualcosa di completamente diverso, è proprio come parlare del, diciamo che è un mezzo gradino sotto Louis Vuitton come marchio, sotto Hermès, è un mezzo gradino sotto Gucci, giusto per fare un nome, a caso, per fare degli esempi a caso, qui stiamo parlando però di un livello altissimo, quando tu ti colleghi a un brand come Off-White, non devi pensare solo ai soldi che entrano come esponzo, ma devi pensare all'immagine che il Milan acquisisce, perché ripeto, qua siamo su qualcosa di completamente diverso, ma quello che non tutti sanno, o che qualcuno di voi sa, è che c'è di mezzo questa azienda, adesso io non sto dando a intendere a niente, perché poi salteranno fuori i soliti simpaticoni ignoranti da quattro soldi, ma tu dicevi, dicevi, sì io dicevo, è vero, io lo dicevo, avevo anche spiegato che LVMH con la pandemia voleva dare impulso all'interno dell'alta moda per pappare tutti, perché quando tutti sono poveri chi diventa più ricco è sempre il più ricco, la pandemia ha impoverito tante aziende, l'altro giorno praticamente i Della Valle sono usciti dalla Borsa di Milano per iniziare a sistemare le loro aziende, perché LVMH Cabernet d'Arnaud vuole Toz, l'ho sempre detto, e a quanto pare, come diceva Gagliani, chi lo sa, non si sa, ma chi lo sa, certi amori fanno giri lunghi e poi torno. Forza Milan, sempre e comunque ovunque, contro il Vicenza. Ciao ragazzi.